Perché lui non è stato aggredito. Allora, ovviamente sapete il motivo della convocazione di oggi, la squadra mobile ha eseguito questa mattina una misura custodiale. Questa è una calibra nuova, una beretta. Una nuova di un'altra, 388, mi pare una 356. Sì, per le quali ha incensurato sì. Raggiunge di nuovo i ragazzi, quando cercano di contenerlo, lui estrae la pistola dal borsello, la punta alla gola del ragazzo di 15 anni, di 12, questa, un'altra fine.